A me mi dispiace che l'hanno fatta così piccola l'immagine, era molto effettivante. Aspetta che ti devo regalare la figlia. E i peggiorini? La mia amica l'ha fatta per compiare. Solo che il pesce è bello. Vediamolo, vediamo. Io ho fatto un'animazione, una volta ho fatto fare una torta a forma di pelle. Ecco, se ti prego fermati. Ah, pensavo l'avessi voluto. Eh? Ho visto una torta a forma di pelle. Non sono le mie. Quindi devo regalare un'immagine che ci dà. No, sei sbranto. No, aspetta, ma fanno tante augure. Dobbiamo fare le cose. No, ma fanno tante augure. No, ma fanno tante augure. Allora, aspetta, riprendi, riprendi. Aspetta, una frutta me la fate, scusate. Con il mio cello. Con il mio cello. Mi devi mettere quella torta sotto. Beh, teniamola alzata così viene la torta. Così viene la torta. Aspetta, aspetta, aspetta. Anche l'esperienza come animatore. Allora... Sorviti? Benvenuti. Pensa a Spamano, Shippa Spamano o Sara? Shippa Spamano come se non ci passano le mani. Non ci passano le mani. Non ci passano le mani. Non ci passano le mani, non ci passano le mani. Grazie, tante auguri a te. Grazie, bravo. Questo è il mio hermano. Un'immagine molto erotica. Fantastica ci sta notte. Grazie, grazie. Anche la chiede di maschetto. Il maschetto non ce l'ho. Eh, infatti facciamo come i foto con tutti. Aspetta, aspetta, fategli una foto con Spagna. Vieni qua, fatti una foto con Spagna accanto. Perché? Ma no, con lei. Ma lui non c'è. Lui è un belgio se vuoi investire. Ma belgio è un belgio. Ma belgio è un belgio. Ma belgio è un belgio. E come faccio? Aspetta. Come si fa a spostare il modale da fuoco?